3,2,1 e sono 60, grazie a tutti! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 E' da godere fino all'ultimo, fino alla fine. Ed ecco lì! E' deriva! Se la giocano in questo momento in A6, in A6. Ma c'è Martino che sta guidando le danze in questo momento. Passaport, Schellsteiner! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 è l'ultimo giro hanno accorciato i tempi ultimo e decisivo giro ultimo e decisivo giro ancora Simone Penerino davanti ancora Bartino Fruè incollato letteralmente con il mostic a lasciargli neanche un centimetro di fuga e attendiamo anche Gabriele Merlino con il numero 91 della categoria Fanshaw ProMaster si scrive qui riparte Simone Peneriva porta letteralmente Simone Peneriva sembra una sfida motociclistica sembra letteralmente una sfida motociclistica 20 secondi qui all'arrivo ultimi 250 metri all'arrivo ultimi 250 metri all'arrivo ed è Martino 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 Fruè Martino Fruè un applauso a Simone Peter Riva grande Simone grazie ragazzi ci avete regalato una gara fantastica ed ecco la volta per il terzo posto ed è del numero 4 Elia Mares mentre arriva anche la quinta piazza con il numero 9 il Fabio Zampese bravi ragazzi brava Martino grande Ricci e arriva anche il dorsal numero 1 di testia Caldigaro arriva anche il numero 15 Michael Steiner e arriva anche il numero 8 Alberto Cudiccio con il numero 14 Rudy Molinari ed ecco Gabriele Merlino vince lui la fascia 1 master il secondo e arriva anche il numero 90 bravo ecco la mano finita le tratture finitissimo bene sta per avvicinarsi il momento dei titoli di coda sulla parte agonistica di questa bellissima edizione del terzo trofeo Renato Magolin qui a San Canziano di Isozio organizzato dagli amici della società ciclistica Team Pieris Team Isozio e ciclistica Pieris